forse non tutti conoscono elias canetti grande scrittore del ventesimo secolo premio nobel per la letteratura nel 1981 autore di un romanzo che è stato tradotto in italiano come auto da fe romanziere scrittore personalità polietrica del del ventesimo secolo del 1900 come come dicevo elias canetti ha dedicato gran parte della sua vita a un concetto questo concetto è la massa canetti si è occupato della della massa della massa il rapporto al potere non è un caso che l'opera l'opera che andremo ad analizzare tra poco si intitoli proprio massa e potere del 1960 l'opera di una vita la definì elias canetti mi lavoro 40 anni questo per far capire la come dire la la minuziosità e anche l'impegno teorico straordinario che l'ias canetti mise in quest'opera diamo alcuni aspetti della vita alcuni elementi biografici riguardanti canetti perché già questi ci fanno comprendere la complessità della figura di elias canetti che l'ias canetti non è un filosofo di professione non appartiene alla schiera di quei filosofi che noi troviamo normalmente sui manuali di filosofia e che noi intus leggere lo stiamo dicendo da tempo riteniamo che invece siano a pieno titolo protagonisti del pensiero della filosofia non esiste una dignità di filosofi soltanto laddove c'è un riconoscimento da parte della comunità dei pensatori o cosiddetti o sedice entità di se volete noi lo vedremo in massa e potere come molte altre opere che sono classificabili come come sociologia come filosofia come antropologia ma in realtà si tratta di tutte queste cose insieme anche qui di steccati teorici devono essere abbattuti perché il pensiero lo mortificano l'opera di canetti quindi ha avuto una lunga elaborazione elaborazione figlia certamente della personalità di questo di questo pensatore dando alcuni cenni alla biografia sulla biografia di canetti capiamo già la ricchezza che di si porta dietro canetti nasce all'inizio del novecento in un piccolo paese dell'attuale bulgaria da una famiglia di ebrei sefarditi di ebrei di origine spagnola quindi porta con sé una radice ebraica però al tempo stesso assorbe la cultura dell'est dell'est europeo evidentemente edi però scrive in tedesco quindi è quella la sua lingua o almeno la lingua che di acquisisce nella quale scrive viverà poi in seguito in svizzera a lungo tempo per lungo tempo a londra quindi questo peregrinare in giro per l'europa lo mette a contatto con diversi diversi uomini diverse storie edi ritiene che sia la filosofia accademica ufficiale qualcosa di lontano dalla dalla fluidità del pensiero per canetti non è possibile sistematizzare in uno schema teorico il pensiero perché questo vorrebbe dire fare un torto alla mente alla ragione ma soprattutto all'uomo per canetti l'antropologia la natura umana è un costante di venire un costante di venire ed è una costante metamorfosi una costante trasformazione e queste trasformazioni non sono non è possibile che vengano acchiappate per così dire dal pensiero dalla filosofia nessuna filosofia fosse anche affinatissima potrà mai cogliere questi questi aspetti questo aspetto della realtà che è una realtà dinamica fluente che non non può essere ecco non può avere nessuna formula tuttavia però massa e potere vuole essere un'opera che pur non essendo di filosofia di fatto affronta una tematica filosofica e sociale qual è quella della massa che è una tematica che inevitabilmente si accosta al potere questo titolo massa e potere un titolo che è un titolo quasi per certi versi obbligato esiste un rapporto tra la massa il potere che è inscindibile il potere si esercita sulle masse e le masse a loro volta esercitano un certo potere dunque c'è una dialettica anche qui tra questi due aspetti tra questi due concetti e canetti lo capisce bene ed è per questo che dedica l'opera ad entrambi questi questi concetti e debì si affida come dicevo all'antropologia alla sociologia alla storia delle religioni tutti questi questi saperi confluiscono nel nello scritto di canetti che hanno scritto quindi di difficile creazione ed è per questo che canetti ci ha messo come abbiamo visto diversi decenni per per dare alla luce quest'opera l'opera però è un'opera che ritengo sia di straordinaria attualità e di grande profondità e per questo che ho scelto di leggerla insieme a voi ma se potere comincia ad essere pensata come opere scritta da canetti già nel 1922 e soltanto nel 1960 viene data alle stampe 38 anni quindi 38 lunghi anni potremmo dire di elaborazione teorica canetti non cita praticamente mai pensatori filosofi marx non viene praticamente mai citato freud viene citato soltanto una volta in una nota non ci sono citazioni di e che il di canto di altri questo non perché come dire perché nella filosofia non ci si sia occupati del tema della massa che in effetti sembra essere un tema più sociologico ma perché l'obiettivo la volontà di canetti e di creare un pensiero nuovo altro diverso che non abbia cioè nessun nessuna ispirazione che non sia che non sia appunto l'elaborazione di canetti stesso canetti abbiamo detto scrive in tedesco scrive in tedesco perché i genitori hanno vissuto a lungo a vienna è stato il luogo della formazione dei genitori di entrambi i genitori di canetti sono due persone colte e che quindi parlavano con con il figlio in tedesco per questo la lingua di elias canetti sarà sarà appunto il tedesco prendiamo un pensatore come marx che è stato citato ebbè è chiaro che marx il tema della massa naturalmente nella forma partito o se volete nella forma del proletariato è ben presente in marx e pure non viene citato come per altri pensatori perché lo ribadisco canetti vuole un proprio pensiero che sia franchi da quello degli altri argomenti in modo nuovo sulla massa intanto il termine massa aiutiamoci con il greco perché il greco ci ritorna come dire in soccorso viene il nostro aiuto ogni volta che ne abbiamo bisogno il termine rimanda a mazein cioè alla massa di pane a quell'impasto di pane che appunto è un tutto un tutto unito insieme in qualche modo quindi questo già ci fa capire che la massa è proprio questo un'unità indistinta in qualche modo in quest'opera canetti analizza la massa e l'analizza il rapporto alla storia il rapporto al potere il rapporto alle religioni c'è una gran parte dell'opera che tratta del tema delle delle masse e del sacro del in qualche modo e riferimento obbligato nel pensiero di canetti anche il tema della morte canetti è un pensatore che lo possiamo definire pensatore ha sempre avuto in in odio la morte e gli dice che in qualche modo ci dice che la morte è il più e il maggiore dei drammi e l'atroce dramma dell'umanità umanità da sempre no sappiamo ha cercato di sconfiggere la morte di rifugirla di non pensarci e in qualche modo quindi la filosofia di canetti è una filosofia che vuole vuole essere in antitesi alla morte non una filosofia vitalistica ma certamente una filosofia che vuole fare in modo di sconfiggere in qualche modo la morte o comunque come dire giocare un po con con lei prendendole in giro in qualche modo quindi il uno degli obiettivi è quello di mostrare come il tema della metamorfosi e il tema della morte abbia a che fare con le masse e con le religioni che sono un altro dei bersagli della della dell'opera canettiana come sempre noi ci rivolgiamo alle opere leggiamo direttamente dal testo dalle opere dei pensatori che analizziamo leggiamo perciò che cosa ci dice e di ascanetti nulla l'uomo teme di più che essere toccato dall'ignoto dovunque l'uomo evita ad essere toccato da ciò che di estraneo ecco l'estraneità l'ignoto e ciò che l'uomo e ciò da cui l'uomo fugge soprattutto quando questo lo tocca in qualche modo l'uomo ha una naturale idiosincrasia verso ciò che ignoto soprattutto quando questo ignoto gli si para davanti e appunto in qualche modo entra in contatto con lui quindi apparentemente l'uomo non vorrebbe entrare in comunione con altri uomini c'è una naturale ritrosia diciamo così alla al contatto con gli altri o almeno a un contatto con l'estraneità con l'ignoto che è cosa diversa però dalla massa perché come vedremo nella massa nella massa ci sono caratteristiche ben definite che la rendono qualcosa di diverso da un semplice contatto ed è qui che canetti ci dice sempre nell'opera all'inizio di massa e potere ci dice qual è la caratteristica essenziale di questa di questa massa che gli sta indagando il principale avvenimento all'interno della massa è la scarica prima non si può dire che la massa davvero esista essa si costituisce mediante la scarica all'istante della scarica i componenti della massa si liberano dalle delle loro differenze e si sentono uguali in particolare dobbiamo intendere le differenze imposte dal di fuori differenze di rango di condizione di proprietà gli uomini in quanto singoli sono sempre coscienti di queste differenze che pesano su di loro e li spingono con forza a staccarsi gli uni dagli altri ciascun uomo ha un suo posto preciso nel quale si sente sicuro e con i gesti esprime efficacemente il suo diritto di tenere lontano da sé tutto ciò che gli si avvicina qui la riflessione di canetti si fa ancora più interessante che cosa nota canetti che la nostra società il nostro mondo da sempre o almeno dalla come dire da da molti secoli certamente moltissimi la nostra una società che differenzia le differenze sociali sono pressoché ovunque differenze di ceto di rango di proprietà differenze economiche sociali culturali che in qualche modo mettono dei muri che tendono come dire a ad allontanare gli individui gli uni dagli altri il luogo nel quale luogo simbolico e anche concreto al tempo stesso nel quale queste differenze non vi sono più è esattamente la massa quella che canetti chiama la scarica che cos'è ma non è altro che l'atto di creazione della massa è quel sentimento che si prova all'interno di una massa sentimento che coincide con una naturale eccitazione eccitazione che porta a che cosa porta al sentirsi tutti uguali ecco all'interno della massa quelle differenze di cui abbiamo detto scompaiono nella massa non vi è più l'aristocratico e il proletario non vi è più il ricco il miserabile queste categorie queste differenze sociali così marcate così nette che tendono a differenziare l'uomo e in genere tendono anche a circoscrivere l'attività degli uomini perché inevitabile che ovviamente queste differenze sociali si ripercuotano bene nelle relazioni sociali no si tenderà a stare con i propri simili con quelli appartenenti alla propria schiera quelli che vengono considerati come simili dal punto di vista sociale questo non è vero nella massa nella massa si ha la percezione la sensazione di un'assoluta uguaglianza questo lo possiamo capire molto bene se pensiamo alle grandi manifestazioni ai concerti chi di noi non è stato ad un concerto chi di noi non ha partecipato ad una partita allo stadio e ha provato quell'esperienza quell'abbraccio quella simbiosi laddove ci si sentiva in assoluta unità ecco questa è la grande forza la straordinaria forza della massa che da sempre da tutti i tempi da tutti in tutti i luoghi ha avuto grande ha avuto grande successo esattamente per questo siamo allo stadio alla manifestazione di esaltazione appunto che può essere per un proprio beniamino un calciatore un cantante ecco lì tutti siamo identici tutti siamo uguali in quella braccia non c'è più nessuna differenza siamo tutti uniti verso come dire un unico obiettivo verso insieme all'interno di una stessa massa per l'appunto non siamo più individui siamo all'interno di una massa siamo un unico corpo in qualche modo è così che nascono le masse e nasce la società delle masse la società di massa e la società del ventesimo secolo che si è appunto almeno a partire o comunque già questo forse è vero anche nel diciannovesimo secolo quando c'è dopo la grande rivoluzione la rivoluzione francese sono sorti le prime forme partitiche o comunque di associazione ecco che gli uomini appunto hanno cominciato ad aggregarsi in modo efficace lì sono nate le masse masse che hanno inciso hanno deciso hanno determinato la vita politica ma la massa non è solo quella del partito come dicevamo c'è la massa nello stadio una massa in una piazza una massa è l'esercito ma canetti dice la massa è fatta anche di masse invisibili per esempio la massa dei morti per esempio la massa di quelli che non ci sono più e così via la massa quindi si dice anche queste molte forme e gli ascanetti anche molto critico nei confronti delle religioni delle religioni storiche delle religioni cosiddette universali di quelle cioè che pretendono di avere una verità assoluta universale sul mondo e sull'uomo leggiamo perché questa questa critica nei confronti delle religioni e come sempre rivolgiamoci al testo scrive canetti religione religioni con pretese universali che sono state riconosciute modificano molto presto l'accento della loro propaganda dapprime esse tentano di raggiungere di convincere tutti coloro che possono essere raggiunti e convinti la massa che si prefigurano è universale ciò che esse desiderano è un greggio duttile è consueto considerare i fedeli come pecore e lodarli per la loro ubbidienza ancora scrive i fedeli collocano volentieri la meta a grande distanza in un al di là nel quale non si debba affatto entrare subito già che se ancora vivi e che ci si deve meritare con molti sforzi e con molte sottomissioni si qui qui canetti fa una critica che alle religioni che è molto 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 forte molto arguta e molto penetrante le religioni universali tendono alla sottomissione dei fedeli il fedele viene inteso come una come una pecorella di un greggio e in qualche modo deve essere sottomesso la logica della colpa del del senso di peccato che cosa sono se non questo un cercare di ammaestrare a domesticare questa massa di fedeli che quindi non ha a ben vedere un ruolo attivo nella religione anzi le grandi religioni tendono a scamazzare a schiacciare la massa e la volgono la rivolgono a che cosa dice canetti e facendo quello che in fondo è il più grande gioco e il più grande il più grande artificio quelle religioni fanno da sempre e in questo canetti somiglia nell'argomentazione a quella quella di friedrich nice cioè cosa dice canetti le religioni postulano un al di là una vita oltre la vita una vita dopo la morte nella quale ci sarà una condizione di felicità di beatitudine di assoluta di assoluto valore peccato però che questa meta non si veda mai e che sia appunto questo obiettivo che è in fondo l'obiettivo del fedele il senso della sua vita della sua esistenza è un senso tuttavia che oltre il mondo e che quindi appunto è una meta che vive nella lontananza nell'allontanarsi quanto più l'uomo vive tanto più pare che pare che essa si allontani maggiore il livello di vita tanto meno l'uomo potrà guadagnarsi questo paradiso o comunque questa condizione di beatitudine ecco allora che le masse appunto in questo senso sono masse castrate sono masse che vivono una sorta di rovesciamento perché lungi dal vivere una situazione unitaria al contrario questa questa sensazione di unità con il divino con il sacro in un appunto in una perfetta simbiosi con la beatitudine non la vedranno mai almeno da vivi e quindi questo è un argomento molto forte contro le religioni le religioni vincono ma di ma vincono togliendo all'uomo la terra sotto i piedi togliendo all'uomo la vita togliendo all'uomo l'impulso lo slancio il piacere come dicevo non è una non è niente di diverso comunque niente di così diverso dalla dalla critica che che friedrich nice fa alle grandi religioni al cristianesimo naturalmente questo non vale solo per il cristianesimo vale per l'ebraismo vale per l'islam vale per le grandi religioni tradizionali secondo secondo canetti come abbiamo visto il il titolo dell'opera di canetti è massa e potere dunque elias canetti si occupa anche del tema della forza del potere quello che in tedesco viene definito makt ecco quindi quindi andiamo a vedere che cosa dice sul sul potere nello specifico si tratta del del comando dell'ordine qui inteso come comando appunto ci scrive ci dice canetti e scrive in massa e potere dell'ordine si pensa è sempre stato così è naturale e necessario fin da piccolo l'uomo abituato agli ordini non ci si è quasi chiesti cosa effettivamente se un ordine se sia davvero così semplice come sembra se non lasci altre tracce più profonde e forse persino ostili in chi lo esegue il comando per sua natura non permette contraddizioni non può essere discusso né commentato né messo in dubbio l'azione compiuta in seguito a un ordine è diversa da tutte le altre ma si sente come qualcosa di estraneo e il suo ricordo sfiora appena esso è uno di quegli elementi della vita che vengono imposti qui qui bei canetti che cosa ci sta dicendo ma che l'ordine in qualche modo il comando è sempre qualcosa di estraneo è percepito come estraneo è percepito come imposizione d'altro canto non lo sappiamo gli ordini sono ordini non ci si può sottrarre all'ordine allora la forza ha valore vincolante perché un imperativo perché si esercita proprio come forza come costrizione tanto è vero che canetti dice in realtà nessuno ha fatto questo lavoro genealogico sul comando andando a vedere che il comando è antichissimo che il comando è uno dei linguaggi più antichi che esistano che precede probabilmente il linguaggio stesso o meglio e forse all'origine stessa del linguaggio un padre un genitore può comandare un pastore comanda le sue pecore un generale comanda il suo esercito e in tutte queste azioni per qualcosa appunto di imposto e qualcosa anche di estraneo dice giustamente canetti quando qualcuno segue un comando lo fa proprio perché è tale però è qualcosa che appare come estraneo a se stessi è come se fosse un'azione che non viene da noi ecco allora in questo senso che si esercita il potere il potere si esercita nella forma del comando stavolta non dell'imperativo cantiano dell'imperativo che ci diamo noi stessi attraverso la nostra legge di ragione la nostra legge morale ma appunto un comando esterno che quindi non penetra se non sotto forma come dire di in qualche modo di coscienza di di essere sudditi di essere in qualche modo appunto controllati dal comando manipolati in qualche modo dal comando quindi etero diretti in ultima analisi questa è certamente una delle caratteristiche del potere la sua capacità di imporre ed imporsi cercando di tirare delle conclusioni critiche di fare riflessioni su questa opera ebbè viene in mente cosa ma viene in mente che la nostra società da ben prima della questione covide 19 e di tutto quello che ne è conseguito è una società è un mondo che tende all'atomismo sociale all'isolamento alla solitudine cioè noi oggi non sperimentiamo mai quella quella scarica di cui ha parlato canetti nella massa quella felicità di quell'unità di questa sorta di unio mistica che c'è nella massa se ci pensiamo in fondo in ormai ovunque vi sono limitazioni vi sono ingressi contingentati documentazioni classificazioni l'uomo tende a diventare a diventare un oggetto quasi che viene classificato che deve essere controllato costantemente e tutte le forme di oggi si direbbe di assembramento tutte le forme in cui appunto ci può essere una folla una massa vengono vengono in qualche modo scongiurate e questo ovviamente che cosa ha generato ma ha generato che poi ognuno di noi tende alla chiusura queste regole così stringenti e che in generale queste mancate occasioni di massa fanno sì che poi ciascuno di noi si naridisca diventa diventa più chiuso e questa è una direzione attenzione che ormai di decenni non è questione di una app di un cellulare di un documento da mostrare a qualcuno la questione che queste queste questa gioia questo impulso di folla di massa di partecipazione sta avvenendo sempre meno e questo lo ripete una tendenza storica una tendenza storica che nel nostro mondo è vera da decenni tutte tutte le forme persino architettoniche come dire tendono a se noi andiamo a guardare ci sono esistono degli alberghi degli hotel che hanno che hanno praticamente che utilizzano delle camere che sono poco più grandi di una lavatrice cioè che hanno lo spazio unicamente per dormire hanno un letto e poco altro sembra che l'uomo debba essere ingabbiato sembra quasi che la piazza il foro siano il male assoluto sembra quasi che lo scambio la possibilità di dialogo sia un fastidio ed è chiaro che in una situazione del genere la società e di conseguenza la possibilità di incidere sul reale anche politicamente non c'è non c'è perché evidentemente l'uomo appunto non si l'uomo non non ha più quella capacità di di unirsi le grandi rivoluzioni grandi movimenti di massa sembrano scomparsi sembrano dimenticati quello è un tempo che ci sembra lontano il tempo del novecento del ventesimo secolo il ventunesimo secolo è il tempo dell'uomo monade dell'uomo atomo solo o al massimo comunque solo dinanzi a uno schermo pensiamo anche alla didattica a distanza a tutti i guai che si ha prodotto e ha prodotto questo sempre maggiore isolamento isolamento che è diventato come dicevo che è diventato una condizione quasi esistenziale naturalmente e questo canetti ce lo spiega bene nell'opera la folla la massa ha un doppio volto se da un lato è effettivamente strumento di felicità di quell'unione che abbiamo detto di quella abbraccio di quella sensazione di essere un unico corpo di vivere una sensazione in piena unità in piena armonia è anche vero che la folla la massa mantiene al proprio interno delle contraddizioni perché è chiaro che l'indistinzione può generare poi può generare delle può generare inquietudine può essere fuoriera di comportamenti inadeguati non accettati e che quindi in ultima analisi la massa diventa quell'indistinzione dove abbiamo detto si è tutti uguali ma proprio perché si è tutti uguali in realtà in fondo è come se non si fosse più in un'indistinzione che poi rischia di essere totale per cui la folla diventa anche il modo tante volte la massa e la folla diventa il modo per non prendersi delle responsabilità per per uscire fuori dalla logica della responsabilità che è sempre individuale quasi come se la folla e la massa potessero fare da scudo anche questi aspetti devono essere tenuti bene in considerazione dunque la massa la folla è un concetto complesso che ha in sé come dicevo delle contraddizioni certo oggi il nostro mondo è un mondo che sempre meno crede nella capacità collettiva quante volte ci sentiamo dire che è impossibile che le cose cambino perché non siamo perché siamo soli perché non riusciamo ad unirci oggi non si crede più nell'azione collettiva non si crede più nella possibilità nella capacità di trasformare il mondo la realtà o semplicemente il proprio quartiere facendo delle azioni collettive si pensa che si è da soli se da soli in questi oceano e si naviga a vista e questa è la morte è la fine del mondo è la fine del mondo sociale perché il mondo sociale è fatto di unità è fatto di è fatto di azioni condivise e collettive che altrimenti se non ci sono lasciano le cose così come esse sono e per l'eternità dunque massa e potere sono un rapporto complesso e a sua volta la massa ha dentro tanti significati come abbiamo visto spinti da queste riflessioni pensiamo con canetti che si debba tornare a riflettere sulla massa e sul potere grazie a tutti grazie a tutti